No, scusate, un messaggio a lei. Alessandro, è una partita molto complicata, anche perché tatticamente in Torino le squadre di Mazzari lasciano sempre poco spazio per giocarla. Si può dire che è la vittoria della rosa, della profondità, della qualità che è arrivata anche in estate? Beh, è la qualità della rosa perché non avremo, secondo me, quest'anno 11 titolari fissi. Secondo me chi sarà meglio giocherà perché siamo tanti e bravi, quest'oggi l'abbiamo dimostrato. È entrato Justin, ha cambiato un po' la partita, insomma, con quella giocata. Patrick e Brian sono due giocatori che in tante squadre giocherebbero titolari fissi, ma come lo sono altri giocatori che magari oggi non hanno giocato e che giocheranno le altre partite. È stata una partita sicuramente difficile, tutti sanno, insomma, come gioca il Torino e come imposta le partite. Mister Mazzari è sicuramente un veterano di questo sport, però alla fine, secondo me, questa vittoria è più che meritata. Le difficoltà sono state più fisiche o tattiche, come hai detto tu di Mazzari, di come ha messo la squadra? Perché abbiamo visto molti giocatori che a un certo punto non ce la facevano proprio più. Ricordiamo anche che siamo alla prima partita. Non so quanti gradi facevano oggi, ma anche se erano le sei faceva veramente caldo. Per tutte e due, ovviamente, le squadre. Siamo andati un po' attratti, nel senso che una volta sembrava più noi in presa sulla gara. Tante volte magari lo erano loro, ma alla fine la qualità del gioco è venuta sicuramente fuori e abbiamo portato a casa una grande vittoria. Che non lo puoi citare a questa Roma in questo campionato? Penso sia ancora presto dirlo. Siamo alla prima partita, abbiamo fatto una grande vittoria. Dovremmo cercare di migliorarci, perché non dobbiamo avere un obiettivo fisso. L'obiettivo è quello di migliorarci sia in campionato che in Coppa Italia. Il Champions League sarà difficilissimo, proveremo a fare qualcosa anche lì. Tra i tanti nuovi che hai citato c'è anche Olsen, è stato anche il punto per lui. Tu hai stretto contatto con il quartiere. Per il ruolo che hai, come hai visto questo esordio e come giudici questo nuovo compagno? Buono, abbiamo fatto un clean sheet comunque importante. Qui a Torino non è mai facile uscire senza gol. Abbiamo fatto tutto il nostro per aiutare Robin ad integrarsi nel gruppo e lui si è messo a nostra disposizione, quindi è sicuramente ben integrato. Grazie. 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 Grazie.